Vorrei capire per quale motivo in Emilia Romagna c'è una percentuale di morti per Covid ad ogni rilevamento maggiore rispetto alla percentuale che l'Emilia Romagna ha di popolazione rispetto al resto dell'Italia. Onestamente è una cosa piuttosto strana. Vediamo l'ultimo bollettino, quello di venerdì 8 dicembre. Vediamo che in Emilia Romagna si sono registrati 99 decessi, in tutti i decessi sono stati 689, quindi l'Emilia Romagna ha avuto il 14% dei decessi totali. Beh, l'Emilia Romagna non fa neppure il 9% degli abitanti dell'Italia. Le ipotesi possono essere tante. È chiaro che se chi è un politico, magari vi rara, intendo di un politico locale, che so che in Emilia Romagna si è più onesti? Oppure vi dirà che in Emilia Romagna la popolazione è più vecchia? Beh, vi dico subito che la seconda sicuramente non è vera e secondo me neanche la prima. La seconda non è vera perché se guardiamo il rilevamento istrata del 2019, l'ultimo prima del Covid, vediamo che l'età media era maggiore a Milano e a Firenze rispetto a l'Italia. Notiamo che in Emilia Romagna, Bologna, che è vero è anche la provincia più popolosa, è quella che ha più morti per Covid. Beh, uno potrebbe dire ma forse è così solo questa settimana? No, era così anche le settimane precedenti. Se noi vediamo la settimana precedente, vediamo che in Emilia Romagna ci sono stati 66 decessi. E i decessi in Italia erano quindi più del 10% dei decessi che ci sono stati in Italia. La settimana precedente ce ne sono stati 58. Ecco, un'altra cosa interessante da notare è come settimana dopo settimana i decessi aumentano. 58, poi 66, quindi un aumento del 10%, poi 74, scusate la settimana prima dei 99, 74 decessi. Poi 74, quindi un aumento del 15%, e da 74 a 99, un aumento veramente consistente. Ecco, cosa dire? Io un motivo me lo sono figurato. E sapete qual è? Se voi andate a Bologna, troverete in molti posti, soprattutto nel centro storico, un odore di fame, di urina soprattutto. Beh, questo odore è in parte dovuto ai drogati che, sotto l'effetto di alcune sostanze, non riescono a trattenere la pipì. Ma non solo a questo. Se voi guardate bene i tubiali, cioè i tubi che portano giù l'acqua dai retti, noterete che, anche se questa pratica è vietata già in tutta Italia dal 1896, molti cosa hanno fatto? Per fare le manzarde all'ultimo piano dai sottotetti, hanno incanalato nei pluviali i liquami. Succede che questi pluviali sono metallici, quindi si prodono, e a un certo punto iniziano a perdere. Ovviamente perdono soprattutto quando vengono tappati. Io personalmente, una volta ho assistito, e ho fatto anche le foto, e se volete le posso caricare, a un'invasione di merda, e sto dicendo proprio merda, di una strada del centro storico di Bologna. Ma questo ovviamente è un caso ecclatante. Di solito escono piccole quantità di liquami, ma giochi ovviamente quando si tappa. E' ovvio che chi ha la manzarda ha tutto l'interesse a stappare il prima possibile. Ecco, tra l'altro a Bologna quando c'era 10, era vieto di mettere le tubature che portavano via le fognature nelle facciate dei palazzi. E forse capisco qual era il motivo, perché chiaramente se i liquami vanno per la strada, ecco, qual è il problema? Però scusate, ho divagato troppo. Il problema è che le persone pestano questo bagnato non rendendosi conto spesso che sono liquami. C'è stato uno studio di università cinese, guardate, non vi spaventi che sia cinese, perché molte università cinesi sono avanti alle nostre università italiane, che ha provato come il virus del Covid sia anche nei liquami. Pertanto la persona pesta i liquami, dopo magari si tocca le scarpe per allacciarsi o per slacciarsi le scarpe e magari poi tocca anche la propria bocca. Oppure andrà a contaminare tantissimi pavimenti con questi liquami. Questa è la mia ipotesi. Forse è sbagliata, probabilmente è sbagliata, però non so se no cosa pensare. Perché la percentuale di morti in Emilia-Romagna, dove si dice che la sanità, almeno così ci racconta i nostri politici, è migliore che in tutte le altre regioni d'Italia, sono più che nelle altre regioni? Che siamo davvero più onesti degli altri? Non lo so. Se vi piacciono queste notizioni, ragazzi, mettete un bel like e magari iscrivetevi. Alla prossima, ciao!